ciao amici si sa niente batte il pesto fatto in casa tranne il pesto fatto in casa a me sembra un controsenso ma è un gioco di parole per dire che di ricette di pesto fatto in casa ce ne sono tante non solo quello genovese che comunque ha diverse varianti a seconda della zona c'è il pesto siciliano il pesto ai fagiolini e anche il pesto ai broccoli ma sei sicura certo sono idee creative per stupire gli ospiti e proporre sfiziose variazioni sul tema si preparano in 15 minuti e adesso vediamo la ricetta poi scrivetemi le vostre varianti qui nei commenti oppure su facebook nella pagina simona vignali naturopata o sul gruppo trendy e sani se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ingredienti per il pesto di fagiolini 300 grammi di fagiolini freschi o surgelati 60 grammi di parmigiano grattugiato o lievito alimentare in scaglie 50 grammi di pecorino romano grattugiato o lievito alimentare in scaglie 30 grammi di pinoli uno spicchio d'aglio qualche foglia di basilico fresco 100 millilitri di olio extravergine di oliva sale pepe quanto basta preparazione pulire i fagiolini togliendo il picciolo e il filamento farli bollire in acqua salata per 7 minuti puoi fermare la cottura passandoli sotto l'acqua fredda e lasciare asciugare consiglio l'aglio qui è opzionale se volete usarlo strofinate con uno spicchio d'aglio tagliato a metà l'interno del robot da cucina nel robot da cucina versare fagiolini pinoli il basilico e il formaggio o lievito in scaglie frullare per due minuti circa per avere una consistenza cremosa oppure a intervalli per mantenere l'effetto croccante dei fagiolini togliere il composto dal robot e finire di amalgamarlo con l'olio extravergine di oliva facile ma come lo usiamo adesso ve lo dico intanto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per seguire le nuove uscite abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro con un piccolo contributo mensile gli amici che si abbonano trovano in esclusiva nella tab community altre ricette come la ricetta del pesto ai broccoli una vera delizia questo pesto ai fagiolini si può usare come aperitivo spalmato sul pane tostato come fossero tartine e ovviamente con la pasta i formati migliori sono fusilli farfalle e conchiglie io consiglio pasta bio integrale oppure senza glutine per chi è intollerante ho selezionato alcuni prodotti di qualità vi lascio il link in descrizione insieme ai miei libri ed ebook di ricette mangia sano e vivi meglio